Partiamo da un testo che rispecchia altri testi di altre civiltà limitrofe a Israele. Questo è un testo ovviamente biblico. Caino ha ucciso Abele. C'è questo dialogo durissimo fra Dio e Caino, dal quale emerge che Caino è un assassino, ma è sincero. Cioè dice sì, io sono colpevole. Il Padre Eterno non gli allunga quattro ceffoni, ma gli dice qualcosa di estremamente ragionevole. Il Padre dice questa terra che tu calpesti sta urlando verso di me perché è impregnata dal sangue di tuo fratello. Non puoi stare qui. Devi andare nella terra di Not. Non investite neanche una palanca per trovare la terra di Not. Perché? Not vuol dire vagabondaggio. Non esiste. Cioè Dio dice a Caino, vai, cammina. Dove, dove vuoi. Terra di Not significa terra del vagabondaggio. Caino dice, beh, se io vado di qua e di là, mi potrebbero uccidere. Ma chi ti può uccidere? Adamo, Eva, Caino, Abele, Abele viene soppreso, sono in tre. Di chi ha paura? Eppure il testo dice che Caino ha paura di andare nella terra di Not, perché chiunque mi può uccidere. Quanti sono gli uomini dell'umanità nascente? Io, a certi nostri amici che leggono la Bibbia senza testa, li appenderei per le orecchie. Perché poi, quando Don Renato dice queste cose, vanno dal Vescovo e dicono, Don Renato fa perdere la fede. No, è scritto lì, se non sai leggere, non è colpa di nessuno. Forse è tua. Basta che tu legga. Non occorre avere alle spalle un dottorato in Sacra Scrittura. Caino, dunque, con la sicurezza che non verrà ucciso perché Dio dice, no, io ti metto un segno in fronte in modo che chiunque ti riconosca e non ti tocchi. Nessuno tocchi Caino. Ora Caino, dice il testo continuando, conobbe sua moglie. Non l'ha sfogliata come un libro. La conobbe in un altro modo. Ha fatto esperienza con lei. Che concepì e partorì Enoch. Poi, divenne costruttore di una città che chiamò Enoch, dal nome del figlio. A Enoch nacque Iarad. Iarad generò Mecuyael e Mecuyael generò Methusael e Methusael generò Lamech. Lamech, a differenza di Adamo e a differenza di Caino, non sia contenta di una donna. Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Zilla. Ada partorì Yabal. Il ricco. Chiaro il concetto. Iabal, il ricco. Egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. In latino, denaro come si dice? Ecco. E pecora? Eccolo là. Spiegato tutto. Il fratello di questi si chiamava Yubal, uomo di cultura. Denaro? Cultura. Egli fu padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Noi diciamo, sono musicisti della scala. No. Nel mondo antichissimo, i vari miti si trasmettevano con il canto. E l'aedo si accompagnava con la cetra. Oppure c'era un altro che fischiottava il flauto e l'aedo raccontava. Questa è la cultura. Silla, a sua volta, partorì Tubal-Kaim, Schwarzenegger. Il fabbro, quello che ha i bicipiti da paura. Padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. Il ricco. Il culturato. Il forte. Sono figure mitiche. La sorella di Tubal-Kaim fu Colomba. Naama. Notate la differenza fra i maschietti e la femminuccia? I maschi. Potere. Cultura. Forza. La donna. Delicatezza e basta. Questa era la concezione originarie. Ora tenete presente che chi va in guerra ha tutti i diritti all'interno della tribù o del clan. Chi non fa la guerra non ha tutti i diritti. Ora, la delicatezza non può andare in guerra e quindi non può avere tutti i diritti. Capite cosa si nasconde dietro a questa dicitura tanto poetica? Si nasconde un imbroglio. I ragazzi all'università direbbero una fregatura. Lamec disse alle moglie, Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, brutto segno. Voi zitte, io parlo. Eh, biologicamente impossibile. Ada e Zilla, ascoltate la mia voce. C'è moglie di Lamec, porgete l'orecchio al mio dire. E qui avete il principio. Questo principio non occorre che lo impariate a memorie. Quello che dice questo principio, voi lo trovate scritto oggi, sul Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, qualunque giornale. Ho nominato solo quelle di sinistra. Dovrei nominare libero il giorno, eccetera. Quello che c'è qui, noi non lo coliamo se non conosciamo bene la lingua ebraica. La prima linea della lingua ebraica, la prima parola a destra. Questo lo possiamo imparare tutti. La prima letterina che sembra una N maiuscola, un po' elaborata, è un Aleph, cioè un niente. Pensate che quando lo traslitteriamo in alfabeto latino mettiamo lo spirito lene. Aleph, ah, niente. Il puntino che c'è sotto, quella specie di micro freccetta e l'accento. Il puntino che c'è sotto, più l'apostrofo, che si trova immediatamente dopo la N, è una I. È una I lunga, un Irec Magnum. E poi quella forca con tre denti e il puntino a destra è un Shin, quindi la pronuncia è Ish. E qui un mio studente di ebraico dice, è un uomo. Ah, questo è Rebus. Per dire uomo ci sono tre parole in ebraico. Ish, Adam e Nosh. E Nosh vuol dire colui che muore. Non è molto poetico, ma viene adoperato parecchio. Per dire un uomo qualunque, Adam. Ish è un nome collettivo. Ish è l'ebreo. Questo testo è stato formulato da un ebreo. Quindi questo Ish ci dice che chi scrive ha una visione che guarda all'interno del popolo di Dio, non fuori. E quindi nel momento in cui scrive, anche in mezzo agli ebrei c'era, purtroppo, questo principio della vendetta, della prepotenza, della prevaricazione, della violenza. E chi scrive, scrive verso il mille. O siamo alla fine dell'impero di Davide o all'inizio dell'impero di Salomone. Il cambio di guardia avviene verso il novecentosettanta circa. Quindi o siamo lì o siamo là. Poca è la differenza. E chi scrive dice che all'origine, nel periodo della storia assiale, cioè quella che diventa parametro per giudicare tutto il resto, Caino, e scusate l'ameg, fa questa affermazione, ma è una cosa che lui vede praticata dai suoi compatrioti e coevi. E quindi il valore di questa affermazione è semplice. All'origine, la violenza di Caino genera la violenza e la prepotenza e la prevaricazione dei ricchi, degli uomini di cultura e dei forti. E siccome in ogni tessuto sociale ci sono A, B, C, lui dice anche oggi sta succedendo la stessa cosa. E questo oggi lui te lo infila dentro scegliendo la parola Ish, non la parola Enosh, per esempio, o la parola Adam. Quindi questo Ish è importantissimo per capire che il principio di Lamech, che proviene, secondo lo scrittore, dalle origini, è vissuto anche i suoi tempi, e noi le diciamo, ragazzino, anche nei nostri tempi. E qual è questo principio facilissimo? Ho ucciso un uomo per una mia scalfitura, e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, Malamech, settantasette. Semplicissimo. Tu mi porti via un euro e io ti porto via la vita. Siamo pari? No, però si fa lo stesso. Io ogni tanto con amarezza leggo le cronache politiche, i rapporti fra i politici. Perfetto. Tu mi sfai uno sgambetto e io ti brucio la vita politica. Nel nostro piccolo vediamo, nel nostro tessuto sociale, anche al di fuori del mondo politico, gli stessi meccanismi. Uno riceve un torto, non è che restituisca qualcosa di equivalente, ma distrugge. quindi non riteniamoci molto civili. Siamo all'epoca dell'uomo primitivo. Testimonianze di questo principio voi lo trovate in tutte le civiltà coeve, sia in Mesopotamia, sia in Egitto. ovviamente da qui nasce il bisogno di una legge. La legge nasce per proteggere il più debole. In Mesopotamia nascono le leggi scritte. In Egitto nasce un altro criterio di legge. Viene inventata la dea dell'armonia cosmica. Mahat la quale non può aver nessun tempio di pietra sulla terra. Perché lei ha scelto di risiedere dentro la testa del faraone. E quindi questa dea, che è la dea dell'armonia cosmica, è quella che detta al faraone la soluzione ai vari problemi che si presentano nel suo impero. E quindi la legge è il faraone. E questo spiega perché in tutte le testimonianze scritte egiziane non ci sia un codice di leggi. Uno. Non ce n'è. Non c'è nessun codice di leggi. Mentre invece nel mondo mesopotamico, cominciando dai sumeri verso il 2500 abbiamo la prima testimonianza di una legge scritta. Poi ce ne sono diverse. Io li ho messo così alcuni testi più importanti dalla linea 40 alla linea 43. Teniamo presente che le primissime leggi, vi dicevo, in Mesopotamia risalgono al 2500. Le primissime leggi scritte ebraiche di cui non abbiamo nessun esemplare diretto risalgono al XIII secolo cioè 1200 anni dopo. Quindi quando compare il corpo giuridico ebraico noi abbiamo già una grande evoluzione giuridica in quei popoli ai quali gli ebrei guardavano con ammirazione e dai quali rubavano spunti di tipo mitologico cosmologico teologico e giuridico. Un caffè ci fa bene.